E' tempo del primo, seppur relativo, bilancio stagionale. Con la vittoria di ieri sera Corrieti, la Trapani Shark si conferma in testa alla classifica del Girone Verde al termine del Girone d'Andata, a quattro punti dalla prima diretta inseguitrice Cantù, che ieri si è arresa a Vigevano. Un dato certamente positivo che mette in evidenza il lavoro di una squadra in costante crescita, che via via ha saputo porre rimedio ai fisiologici assestamenti della parte iniziale del campionato, cosa messa in evidenza anche nella gara ieri sera Corrieti. Una partita in sostanziale equilibrio nei primi due quarti, ma con la sensazione del pallino del gioco in mano a Granata, con la spallata definitiva arrivata nel terzo periodo, in cui Orton, Eimbrò e Mobio su tutti sono saliti in cattedra per la gestione del più 24 finale. Ascoltiamo il commento di Coach Parente nel post partita. E' stata una bella partita, credo che terzo e quarto quarto abbiamo espresso su ambo le metà campo un alto livello di gioco, un'alta qualità, cosa che non avevamo fatto, ho fatto a singhiozzo i primi due quarti. Un dato per tutti, terzo e quarto quarto abbiamo prodotto 15 assist, mentre i primi due solo nove. La qualità dei tiri è aumentata da sotto e da fuori. E soprattutto contro una squadra che avevamo un po' non paura ma grossissimo rispetto perché ha un impianto di gioco e questo va dato merito a Ale, che pur essendo giovane ma le sue squadre sono state sempre, quando lo affrontate, dei grossi rompicapo perché difendono forte e in attacco sanno sempre dove andare e infatti per 20 minuti ci hanno messo in grossa difficoltà stringendo, aprendo il campo e le abbiamo dovuti quasi rincorrere. Poi abbiamo aggiustato due o tre cose, abbiamo cambiato due o tre set offensivi e credo che la qualità che ci permette di avere il nostro roster e la profondità abbia fatto la differenza. Ripeto, ma la cosa fondamentale è che in attacco ho visto condivisione della palla soprattutto terzo e quarto quarto e in difesa ho visto più coesione, più attenzione ai dettagli rispetto ai primi due quarti.